Nuove indiscrezioni trapelano da palazzo, con la moglie di Alberto di Monaco, Charlene, sempre sotto la luce dei riflettori. Non solo reali inglesi. Anche la famiglia Grimaldi ha attraversato dei momenti davvero difficili del proprio principato, soprattutto nel periodo in cui la moglie del principe Alberto, Charlene Whitstock, ha avuto seri problemi di salute, tempo fa. La principessa, infatti, fu colpita da una malattia che interessò orecchie, naso e gola e che le creò dei seri problemi soprattutto per ciò che concerne la deglutizione. Ma non bastava, perché per un periodo si erano diffuse anche delle voci sgradevoli sul suo matrimonio, con qualcuno che l'accusava di aver tradito il marito. Molti giornali avevano anche parlato di cattivi rapporti tra la cognata, Carolina e Charlene, e molto altro ancora. Dunque, dopo questo lungo periodo irto di difficoltà, pare che la situazione si sia calmata e che da allora, siano parecchie le cose che sono cambiate. Alberto di Monaco e Charlene, il cambiamento della principessa che lascia di stucco. Da quanto si apprende, e come riporta Diva e Donna, i tempi in cui la principessa Charlene viveva un momento difficile sarebbero più che mai lontani. I tempi in cui, la principessa non era avvezza alla luce dei riflettori. Oggigiorno, le cose sono nettamente cambiate, tanto che qualcuno insinua che il suo brillare così tanto, possa addirittura mettere in ombra il marito, che apparirebbe più spento, rispetto alla sua consorte. Da quando sta meglio, la principessa ha preso in mano la situazione, e ha dimostrato di saperla gestire al meglio, sfoggiando looks sempre più abbenenti e padroneggiando la scena. Durante il Monte Carlo Television Festival, Charlene era splendida, con una tuta jumpsuit monospalla caratterizzata da ritagli sul corpetto. Un vero splendore, arricchito da dettagli di pizzo. I suoi capelli, mossi, la rendevano ancora più bella, dandole quel tocco in più che non guasta affatto. Non solo, perché i reali hanno presenziato anche a un'altra cerimonia, con i figli Jacques e Gabriella. L'evento è stato molto emozionante per la principessa, che ha trascorsi da atleta. Dopo un periodo davvero difficile per la coppia reale, sembra proprio che tutto si stia mettendo per il verso giusto. Ed è bello vedere che la principessa è in forma più smagliante che mai. Forse il principe è leggermente meno in forma, ma saprà di certo come rimettersi in pista.